a lei ci siamo oggi non ci troviamo in giro per i tre di mountain bike non ci troviamo in nessun circuito gare non ci troviamo in palestra ad allenarci bensì ci troviamo nel mio garage con molto piacere vi presento il mio nuovo progetto dedicato al mondo bici parte ufficialmente mtb garage sila sono sempre di più gli amici che mi chiedono assistenza e mi vengono a trovare nel mio garage per sistemare le proprie bici ma sono sempre di più gli amici che si appassionano alla manutenzione ordinare straordinaria delle nostre mountain bike e vorrebbero approfondire per metterci mano ed in base alle loro necessità vorrebbero studiare sempre di più temi di natura tecnica e strumentale la serie ha uno scopo ben preciso e cioè la condivisione e l'approfondimento in maniera quanto più leggera è possibile comprensibile a tutti anche ai meno smanettoni sarà quindi composta da episodi a tema vedremo assieme quelle che sono le operazioni di manutenzione di routine procederemo all'upgrade e all'installazione di prodotti di terze parti analizzeremo le operazioni anche un po più complesse e laddove si necessita di una preparazione specifica ci avremo di collaborazione con negozianti ed officine alcuni episodi saranno dedicati a tematiche multiple parleremo di mtb in pillole in un unico episodio si tratteranno argomenti differenti di breve durata veloci da approfondire in questa serie inoltre si cercherà di analizzare quanto più è possibile prodotti made in italy prodotti che molto spesso si equiparano per caratteristiche con altri prodotti internazionali ma sempre più spesso la nostra scelta ricade su altri prodotti non di fabbricazione italiana ci troviamo a spendere di più solo per una questione di pubblicità l'uscita degli episodi sarà cadenzata seguitemi sul mio canale instagram per avere aggiornamenti su quelle che sono le uscite non mi dilungo oltre spero di accontentare tutti pian piano e di trattare quelli che sono gli argomenti più sensibili e che interessano ad ognuno di voi ci tenevo a ringraziare lo staff di crea com pubblicità pasquale e vittorio che mi hanno aiutato ad allestire il mio splendido garage mi raccomando restate sintonizzati per conoscere la data di uscita del primo episodio iscrivetevi al mio canale youtube e se gradite i contenuti pollice all'insù e magari lasciate qualche commento con qualche suggerimento qualche indicazione o semplicemente per un saluto a presto a lei a presto